E' mica aspettato il treno, no? Buonasera. Io mi chiamo Nicola, sono nato a Cerignola, sono cresciuto da fragola, e lavoro ad Ortanova, Ortanova Marina. Dopo aver fatto il semplice ferroviere, è arrivata la promozione, mi hanno messo a farlo schipperlo, in poche parole, hanno usato i treni alla stazione. E' un lavoro di responsabilità, ma pure qualcuno l'ha da fare. No, ma sono contento, perché sono l'unico che ha la tecnologia intelligente, anche se magari a guardare non sembra, qua non ci volevo la risata. Questo è l'unico megafono, mille volt, mille watt. Mille volt, mille watt. Infatti, mille volt l'ho chiesto alle ferrovie dello Stato, mille volt mi hanno detto watt la compra, mille volt, mille watt. Anche con il pc, questo ve lo rispiegano, mille volt. E' un lavoro di responsabilità. Il nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Termoli, una città diciamo di circostanza, che comunque amiamo molto, ma di circostanza perché idealmente potremmo fermarci a Lanciano, potremmo fermarci a Roma, a Salone Margherita o a Larino, la città da cui proviene il collega amico Antonio Mustillo. Antonio Mustillo che proprio in questi giorni festeggia i suoi dieci anni di cabaret, e almeno quelli sul palcoscenico diciamo, perché poi in cuor suo sappiamo, almeno noi amici, forse diciamo la maschera da cabarettista la si è magari già da bambini, davanti allo specchio, quando ci si fa la barba poi crescendo, fin quando un giorno si decide, no io voglio salire su un palco, voglio comunque mettere così alla prova questa mia dote. Innanzitutto ben ritrovato con le telecamere di Termolise, su Viaggio in Molise. È un piacere, ciao a tutti gli amici di Viaggio in Molise, e sì c'è chi mette la mia testa apposta, a un certo età io invece l'ho scomposto un po', salendo sul palco e come hai detto tu poi da lì sono arrivate tante fermate, per rimanere un po' in tema con il mio ferroviere, con il mio personaggio. Sì, diciamo che ho iniziato una passione da piccolo con la radio, lo premetto perché la radio è il mio vero amore, però la radio è più difficile perché non si fa radio facilmente, mentre il cabaret basta avere il coraggio di salire su un palco, se hai qualcosa da dire lo dici, poi se fai ridere questo è da vedere. A me è riuscito e sì, sono qui dopo dieci anni, sono ancora in giro. Ecco, Mustillo noi lo conosciamo anche per le sue partecipazioni a diversi programmi, il sosia naturale di Bonolis, insomma, sicuramente sei stato su palcoscenici, importanti anche in tv, oltre che su Tele Molise a lungo, anche sulle reti Mediaset. Perché cito questo? Perché poi arriviamo a parlare anche di radio, ma parliamo proprio di televisione. Ecco, a un certo punto uno fa un po' di zapping serale, nella classica fascia che d'inverno distriscia la notizia, invece d'estate c'erano, diciamo, programmi più prorompenti, mettiamola così, sulle reti Mediaset, a un certo punto esce Antonio Mustillo Dallarino. Che è successo? Ebbè, erano i tempi di cultura moderna, ti riferisci? C'era la possibilità di iscriversi a questo, chiamiamolo concorso, perché comunque si vincevano dei soldi. E io ci sono andato molto vicino a vincere 500 mila euro, e mi sono esibito come sosia di Bonolis. Fino a quando non ho messo l'occhialino, era tutto tranquillo, di colpa è partito un applauso che non finiva più, e c'era la bellissima Giuliana Moreno, che un po' mi ha distratto. E lì quando mi hanno chiesto il personaggio a me è venuto da dire Franco Nero, e invece, no, era Franco Nero, e invece ha detto Franco Neri il comico, insomma. Ma la distrazione ci poteva essere, comunque condividiamo. Potevamo dare 500 mila euro, ero distratto. No, no, no. Il problema è che c'è la voce la volente, capi? Uno dice la faccia è buona, se non a me non c'è la voce è brebbi. No, la faccia è buona, se la voce la volente, perché si sa che, eh, disgrazio non vengo mai dato. Ma sono andato! Però, però ho scoperto, però ho scoperto dove sta il problema. E il problema sta negli occhiali, se toghi gli occhiali la voce mi torna normale. Ma non è la mia unica disgrazia, sono sposato. Il problema è la gelosia, la sua. Solo per farvi capire, l'altro giorno sono andato a fare la spesa nel mio negozio di fiducia, arrivata la cassa, una bellissima sorpresa. Avevano cambiato la cassiera. Al posto del comò che c'era prima, perché quello di prima era un comò, un metro e venti per un metro e quaranta, aveva i tarli. Al posto del comò tarlato, una ragazza bellissima. Tornato a casa, lei se ne è accorta, mi ha perquisito, ispezionato, e secondo lei mi ha trovato pure in difetto. Infatti in fondo allo scontrino, come su tutti gli scontrini, c'era scritto grazie e arrivederci. Ah, grazie, arrivederci. Allora tu vuole rivedere, allora ci sta? Grazie, arrivederci. Sono dovuto tornare al supermercato a farmi cambiare lo scontrino, e ora sono l'unico che in fondo allo scontrino porta scritto grazie e va. Poi ovviamente, come dicevi, sono anche dieci anni invece di cabaret a contatto con il pubblico, con questo personaggio molto particolare che è un ferroviere, Nicola da Orta Nova, ma effettivamente questo personaggio, la domanda di prassi che te l'hanno fatto cento volte, esiste nella realtà? Orta Nova Marina, questa stazione esiste nella realtà? Cioè com'è che ti viene in mente, di colpo, facevi tutt'altro nella vita di crearti questo personaggio che fa il ferroviere? Allora, io ero andato a fare un provino al laboratorio di Zeliga a Milano, tornato alla stazione, di colpo c'era lo sciopero dei treni, io non sapevo niente. Sono rimasto alla stazione per diverse ore, con questi annunci che partivano, pim pom, il treno per Milano annullato, pim pom, tutti i treni che si fermavano, e da lì mi è partito un nervoso che però mi ha detto, vuoi vedere che posso fare un personaggio? Mio socio era ferroviere, avevo la divisa, mio socio era barese, ho provato a fare degli annunci così in pugliese, li ho provati in uno spettacolino a Bonefro, giusto per vedere se funzionava, è diventato il mio personaggio. E a questo punto facciamo parlare proprio Nicola da Ortanova, se dovesse fare un annuncio e poi lo vediamo insieme, magari uno spezzone. Abbiamo in archivio qualcosa di Nicola da Ortanova che possiamo far vedere? Ok, allora, lascia spazio al tuo alter ego praticamente Nicola da Ortanova per far annunciare un suo piccolo sketch. Che vi devo dire, Nicola da Ortanova è un personaggio importante, arriva da Ortanova a Marina, che non è come Ortanova, che a Ortanova a Marina ci sta questa nuova moto, non so se è arrivato per qua da voi, le ragazze che vanno in giro con le mutande di fuori, i pantaloni a vita bassa, che quando li guardo viene il cavallo alto, capito? C'è una cosa particolare. Niente, voglio fare un annuncio a tutti, ascoltate e guardate soprattutto i viaggi in Molise, se non avrete tante disgrazie nella vita, questo è un annuncio che posso fare. Mentre va il clip noi facciamo gli scongiuri ovviamente, ma ci rivediamo tra pochissimo sempre qui in questa nostra puntata particolare celebrativa con il nostro amico Antonio Mustillo, che lo ricordiamo festeggia dieci anni di cabaret e dieci anni trascorsi anche a far sorridere tanta gente, anche a dentistica. Anche con il pc, con il computer, ho voluto essere alla moda, ho chiesto un portatile, mi hanno detto, portate. Faccio il portatile. È un lavoro di responsabilità, ma pure qualcuno le dà. Pimpon, è in partenza del terzo binario, l'Indersity 695 per Torino, ferma a Bologna, Ancona, a Pescara. A Pescara Portanova non ferma, ma siccome mi piace dirlo lo dico, Portanova. Nella carrozza numero 6 si effettuano anche i servizi ristorante, ma se volete un consiglio, non prendete il coniglio. Oggi dalla stazione sono spariti 5 gatti. 5 gatti, quant'erano i barri. No, che la vita di Portanova non è semplice, è Portanova Marina. Che si chiama Portanova Marina? Ma il marge l'abbiamo. Quello è il sindaco per vincere le elezioni, ha scritto il cartello. Le elezioni le ha vinte, ma il cartello non l'ha tolto. Ad agosto arriva la gente da Torino, c'è col costume e poi il marge. Che poi si incontra certa gente. L'altro giorno, ad esempio, ho incontrato uno che dice che era un vecchetto, e in poche parole prevedeva il futuro. Dice che tutto iniziato quando andava a scuola, ogni volta che immaginava che lo bocciava, lo bocciava. Poi a 14 anni ha immaginato che il padre non gli comprava il motorino, non gliel'ha comprato. Poi quando è iniziato ad uscire con le prime ragazze, ogni volta che immaginava che non gliela davano, non gliela davano, allora l'ho bloccato e gli ho detto ascolta, anche io ho scoperto che sono un veggente. Poco fa immaginato, mi ha detto che mi andava a fare anche un... con le prime ragazze, e la prima ragazze è un'altra... .. Grazie a tutti.